I modern strangers, oltre la burrosa aspettativa. All'inizio avevo chiesto di trattenervi negli applausi laddove foste stati in grado di resistere alla loro musica. Non l'avete fatto, sono stati bravi. Noi vi ringraziamo per questo. Adesso ve li presento, ve li presento nuovamente. All'inizio avevo parlato di splendida voce proveniente dal cuore, pena di gioia e di luci. Ho mantenuto la promessa. Alla voce, Erika Olivieri. Alle chitarre, Donato Monterisi. Al pianoforte, Pietro Gallo. Al basso, Iuri Perchinunno. Alla batteria, Antonio Cicoria. La sezione fiati, alla tromba, Francesco Ariemme. Sax alto, Mario De Lucia. Sax tenore, Luigi Acquaro. Al trombone, Vincenzo Pastore. Il sax baritono, Nicola Simone. Le voci narranti, Gigi D'Aquino. Molto umilmente, Marco Mianese. E ora, lidiatore del progetto. Autore, tra l'altro, dei primi tre pezzi. Ci ha creduto, ha diretto l'orchestra, il maestro Franco Cirillo. Grazie a tutti. E ora, visto e considerato che sono stati bravi e che vi state alzando, scatenatevi, ci dedicate altri dieci minuti? Un pezzo? Un minuto? Due? Un pezzo? Oh! Non siete obbligati a rimanere seduti.